Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Siamo pronti per andare a leggere i principali quotidiani nazionali, ma soprattutto quelli di Casanossa per vedere le principali notizie di questo venerdì 1 febbraio 2019. Iniziamo con le prime pagine in questa prima parte, partiamo con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Questa è l'apertura dell'edizione di Pescara Distretto Sanitario Via ai Lavori. Pescara, entro un anno saranno trasferiti gli ambulatori da Via Rieti a San Donato. Andiamo in alto sotto la testata per vedere i box che riguardano ad esempio l'Abruzzo verso il voto, autostrade, i sindaci ai candidati, pedaggio e sicurezza sono le priorità. E poi ancora per la politica, Chieti Berlusconi attacca il Movimento 5 Stelle, sono nemici delle imprese. Sostegno famiglie, reddito di cittadinanza in Abruzzo, 44 mila gli assegni. Scendiamo a centro pagina, la foto notizia è dedicata al calcio, al mercato che si chiude, Maccina al Parma. Ovviamente parliamo di Pescara, il Pescara chiude senza rinforzi. Poi ovviamente vedremo il servizio riassuntivo del nostro Andrea Costantini, ma tutto questo nella seconda parte. Altre notizie sotto la foto. Francavilla, due incidenti, traffico in tilt, mattinata di caos, coinvolti un ciclista sulla riviera e un motociclista sulla nazionale. Altre notizie. Allora andiamo nelle cronache, siamo sempre a Pescara. Alessandrini, Miri Candido, senza primarie. Il giorno dopo l'assoluzione per la vicenda del mare inquinato, il sindaco di Pescara rompe la linea dettata dal segretario cittadino del PD. Le primarie adesso sarebbero un'assurdità. Sempre a Pescara, casa famiglia per i disabili rimasti soli. E poi andiamo a Montesilvano, il bilancio 2019, multa, il comune di Montesilvano vuole 4 milioni. Da leggere, le vittime del terrorismo raccontate dai loro figli. Andiamo all'edizione di Chieti, il lanciano vasto. Ovviamente leggeremo solo quello che cambia rispetto alle altre edizioni. Per esempio l'apertura, sventata la pina, sparati tre colpi. Chieti, tre banditi armati di pistola, tentano di investire i carabinieri che fanno fuoco. La fotonotizia è dedicata proprio alla visita di Berlusconi. Chieti, Berlusconi parla agli imprenditori, attacca il Movimento 5 Stelle, presidente di Forza Italia. In tour in Abruzzo. Sotto la fotonotizia, stupro di gruppo e droga. Quattro imputati, siamo a vasto. I PM offrono ascisce e coca a una coetanea di cui avrebbero abusato. Nelle cronache, lanciano gioco d'azzardo e cocaina. I casi, purtroppo, sono in aumento. Andiamo a Chieti. Ci tiene ai figli le minacce dei due usurai. San Salvo, settimana corta alla Denso. Stop il venerdì. L'edizione di Teramo del centro. L'apertura. Asl riparte il sistema informatico. Si può tornare a fare le prenotazioni dopo un blackout, pensate, durato ben otto giorni. La foto, auguri del sindaco a Ginobble in partenza per Sanremo. Il cantante del gruppo Il Volo in partenza per la rassegna Canora, che si aprirà tra poco. Dunque, gli auguri del primo cittadino di Roseto in basso. Lite con l'acido, decisiva la scientifica Teramo. Si indaga per lesioni aggravate dopo lo scontro tra i due imprenditori. Nelle cronache, il progetto ex manicomio, tempi stretti per l'appalto. Entro l'anno i lavori per il recupero dell'enorme complesso da destinare a sede universitaria devono essere affidati. Ieri è stato firmato il contratto per la progettazione. La sentenza, sempre a Teramo, estorsione con foto di nudo. Assolto, calciomercato in serie C, Teramo resta il portiere. Lewandowski, anche su questo poi ovviamente vedremo il servizio. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Ecco i 10 milioni per 300 imprese. L'Aquila, al fondo possono aderire anche aziende molto piccole e gli autonomi. La foto, Francesco e Anastasia quando l'amore è eterno. Avezzano sposi da 70 anni e dunque complimenti a Francesco Di Mattia e Anastasia D'Angelo con il figlio. In basso, liceo classico, sede unica a Pettino, dal 4 febbraio siamo all'Aquila, anche il corso C nei MUSP usati dalla dottrina cristiana. Nelle cronache, Avezzano, corteo vietato il mercato, domani si farà niente manifestazione in strada per gli ambulanti del mercato. Al massimo un sit-in e in un luogo da stabilire. Pollice verso della questura, domani dunque mercato regolare. Castel di Sangro, Caruso e Salvini, comuni senza 111 segretari. Stadio inadatto, l'Aquila non gioca a Tagliacozzo, la gara forse si giocherà come leggete in alto a Oricola. Cambiamo quotidiano, adesso andiamo sul messaggero. Questa è l'apertura, questura declassata e bufera. L'Aquila, scontro politico in piena campagna elettorale sulla nuova classificazione dell'ufficio. Il capo della polizia rassicura il sindaco. Organico e funzioni non cambiano. La calata dei big Berlusconi a Chieti, un'auto sospetta, la due giorni in Abruzzo del leader di Forza Italia. La polemica, Marsiglio e quell'astenzione sul terremoto, il PD all'attacco, qualcuno va a resumare il voto in Senato, leggiamo sul decreto per il terremoto 2016-2017, scopre che in quella circostanza il senatore Marco Marsiglio, candidato governatore del centrodestra, aveva scelto l'astenzione e il PD ne approfitta per fare polemica. In alto, l'altra Pescara, inchiesta di Pier Vincenzi sulle ombre del delitto neri. Il premio, Coulibaly, Chiesa, Zapata e Marotta tra le nomination del premio Prisco. E poi, calcio, mercato chiuso, Pescara dice ciao a Macin, per la difesa arriva Pinto. Il terremoto prende il difensore Madrigali, salta Lewandowski al Perugia, col paccio del notaresco che cede Liguori al Catania, si rinforza anche il Pineto. Scendiamo all'interno della pagina, vediamo Pescara, Antonelli e Alessandrini pronti per la sfida, le assoluzioni aprono la strada agli aspiranti sindaci, una donna in campo. Per i 5 Stelle, Truffa Online, D'Alfonso, violata la posta elettronica e spariscono i soldi. La foto, con la foto andiamo a Chieti, colpo in fumo, i carabinieri sparano quando il colpo è andato a monte. I tre banditi hanno tentato di investire l'auto dei carabinieri che si sono difesi, aprendo il fuoco, erano pronti per aprire la cassaforte e torna dunque la banda delle ville, come leggiamo in alto. E poi, in basso, aggressione con l'acido, tra i due litiganti arrivano accuse incrociate. E rimaniamo a Teramo con la prima pagina del quotidiano La Città, proprio della provincia di Teramo. Ex manicomio, il recupero è realtà, master plan tra 150 giorni, progetto definitivo, poi la gara e il cantiere. Entro l'anno, in alto nei box, leggiamo, la sanità teramana torna alla normalità, risolto il guasto al CUP, è stracciato il contratto. L'ite tra imprenditori, solo le impronte sveleranno chi ha sfregiato. Campli, bomba ecologica, a due passi. Dal Salinello, a fotonotizia, abbiamo scherzato, è pronta l'exit strategy per non rifare il corso vecchio. In basso ancora polemiche sui tigli stradali, l'ANAS l'Italia, ma per la stradale, non sono pericolosi. Crimi ha collaterrato, vice ministro benvenuto nella ricostruzione, che non c'è. A Roseto, rifiuti, nuovo centro a Fonte dell'Olmo. In basso, la nuova frontiera, i furti giuliesi si difendono con i droni. E poi per il mercato, il mercato del Teramo si chiude con il difensore ex Viola Madrigali. Queste le prime pagine di Casa Nostra, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, che ovviamente pongono l'economia al centro, i conti pubblici. Questo è il Corriere della Sera. L'Italia ora è in recessione. Pillincallo dello 0,2%. Conte dice, passerà, Tria, rilanciamo gli investimenti, gli industriali. Emergenza crescita, Castelli. Non è colpa della nostra manovra, sempre per la politica italiana, i migranti e il Viminale, piano di Salvini per ordinare il blocco navale in alto. L'altra apertura è dedicata ovviamente alla situazione in Venezuela. dall'Europa arriva un voto per Guaidò, ma Lega e Movimento 5 Stelle si astengono e il governo si divide. La Repubblica, recessione, le accuse della UE, banche e consumi, tutti i rischi. Pill, l'Istat conferma, meno 0,2%. Dombrovski spesa l'incertezza sulla linea economica del governo in alto. Quelle tre ore, torniamo al naufragio del 18 gennaio scorso, quelle tre ore in cui 117 persone sono state lasciate a negare. E poi la lettera del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, perché Milano non vuole farsi comandare dalla regione le autonomie sbagliate. Il Fatto Quotidiano, nuova recessione, di chi è la colpa e come se ne esce? La frenata globale riduce le esportazioni, ma ci sono problemi domestici, investimenti e consumi sono in calo. Meno 0,2% nell'ultimo trimestre 2018, processo Diciotti, cresce l'affronto al Movimento 5 Stelle Pro Salvini. A centropagina, Macchettav, ecco i treni merci vuoti da Torino per la Francia. Orbassano, nello snodo al centro del progetto, il traffico è in declino da molti anni. Il messaggero, preapagina nazionale, recessione, governo in allarme, mossa per sbloccare i cantieri, l'Istat, calo dello 0,2% del PIL, crescita 2019 sotto lo 0,5%, Di Maio accusa il PD, misure per accelerare gli appalti, boccia, agire subito o ci sarà un rischio sull'occupazione? Di spalla vediamo anche qui le questioni che riguardano il Venezuela. Noa Guaidò, lite giallo-verde sul Venezuela perché il Movimento 5 Stelle non lo riconosce. Salvini, stop all'ONG per decreto, il processo un'invasione di campo, tensione con l'alleato, ausiliari del traffico, meno potere di multa, i sindaci è un danno, stop in aula al disegno di legge che non li equipara più ai vigili. Lanci, associazione nazionale dei comuni italiani, non ci sta, così ci saranno meno entrate proprio per i comuni. Libero, negozi chiusi la domenica, multato chi osa lavorare, l'economia langue, il Movimento 5 Stelle la peggiora, l'Italia è in recessione per uscire dalla crisi di maio, vuole limitare le aperture degli esercizi commerciali nei festivi, pena sanzioni da 60 mila euro. Follia. A centropagina, anche Montalbano in TV fa il tifo per gli immigrati, il commissario trasformato in volontario dell'ONG e poi che è esagerata la Chienge, sogna 50 milioni di neri, pazza idea dell'esponente PD, il nostro paese va rigenerato. Il manifesto a tracco finale. La Sea-Watch approda al porto di Catania, i 47 migranti a bordo, tra cui 15 minori non accompagnati, possono finalmente scendere a terra dopo 12 giorni di mare. Escluso il sequestro della nave, ma Salvini non si rassegna, mi risultano irregolarità. In alto l'Italia è in recessione, Conte sarà una recessione transitoria. Poi l'analisi slitta, oggi Salvini in valle, TAV, governo nel tunnel. Il tempo ce l'hanno fatta e decrescita felice. Il PIL va giù mentre l'Europa va su, ma sono tutti contenti perché crescono gli occupati anche se precari. Chi non cerca lavoro è in fila per la pensione o il reddito di cittadinanza. In alto, Raggiatria, Cacciatù, Casa Pound. La sindaca manda una lettera al tesoro. Quello stabile è del demanio. La fotonotizia. Grazie Ninja. La Lazio va in semifinale. In Coppa Italia e Bianco Celeste eliminano l'Inter. E calci di rigore decisivi. Sbaglia proprio l'ex romanista. Il sole 24 ore. E recessione le imprese. Ora reagire. PIL in calo dello 0,2% nel quarto trimestre 2018. Dopo il meno 0,1% di luglio-settembre. E questo è l'andamento del PIL. Variazioni trimestrali congiunturali. Insomma, trovate tutto nello specchietto proprio in prima pagina. Sul sole 24 ore. In alto, fattura elettronica. Niente sconti, però messi versamentiva. Apertura su errori che siano in buona fede. Altre notizie che ci arrivano proprio dal quotidiano di Confindustria. Coppa emiliana in crisi. Studiano il riassetto. Andiamo negli Stati Uniti. Trump intesa in vista sui dazzi con la Cina. La stampa. Il governo adesso teme la manovra BIS. Scivola il PIL al meno 0,2%. Vertice a Palazzo Chigi. Ma i programmi non cambiano. E Tria dice fiducia nel nostro debito. Tra poco vedremo anche i quotidiani sportivi in cui ovviamente prevarrà il mercato e anche il quarto di finale di ieri sera di Coppa Italia che ha visto la Lazio passare il turno. Eccoli qua i quotidiani sportivi. Partiamo da Gazzetta dello Sport con Spalletti al muro. Tradito dal Ninja e sottotiro. La Lazio è in semifinale. Delusione Inter fuori dalla Coppa Italia ai rigori. 4 a 5. E Conte appare sotto la sede e non è solo un fantasma. Nerazzurri brutti. Andanovic non basta. Icardi risponde a Immobile all'ultimo secondo di supplementare. Poi un'altra eliminazione. E vediamo dunque. Nello specchietto sarà Milan-Lazio la prima semifinale. Fiorentina-Atalanta la seconda. In alto quanto ci Piontek. che il Milan, il supercolpo, è il polacco. Fiorentina e Genoa piazze a fare ieri stop alle trattative. Agnelli sveglia la Juve squadra al rapporto. E nel 2019 Ronaldo è in calo. Azioni-Atalanta. Boom. Zapata vale 45 milioni. Mancini 25, alti 3. Già 20 in basso. Vialli con Mancini. In nazionale torna la coppia. Capo delegazione potrebbe essere l'ex attaccante di Sampdoria Cremonese e Juventus. E ritrova il suo gemello proprio in Doria. Ovviamente il commissario tecnico Roberto Mancini. L'intervista. L'oro di Giampaolo. Io e Quagliarella. Opposti e felici. E poi il compleanno. I 50 anni di Batigol. Il leone che da noi è diventato un re. Il Corriere dello Sport. San Ciro. Lazio ai rigori. 5 a 4. Inter fuori. Immobile firma all'1-0 ai supplementari. Incredibile fallo in area di Milinkovic. Savic ha un secondo dalla fine. 1 a 1 di Cardi. Si va sul dischetto. Decisivo l'errore di Nengolan. Inzaghin. Semifinale con il Milan. Chiuso il mercato. Allora vediamo Romulo alla Lazio. L'inter parcheggia Brasau al Parma. Cagliari scatenato. Con cacciatore anche Teru. Da Pionte e Camuriel. Giudichiamo gli affari di gennaio. In casa Roma. Pallotta resta a guardare. Il presidente lascia decidere tutto a Monci. Che conferma Di Francesco. Vince il Milan per la Champions. Baccaiocò esclusivo all'Olimpica. Uno scontro diretto. Siamo pronti. Vialli da Gravina. Torna con Mancini. Il presidente federale lo vuole. Il capo delegazione della Nazionale. L'intervista in basso al sottosegretario Giorgetti. Lo sport cambia così. Presentata la riforma che ridimensiona il CONI. E poi Sarri contestato nel Chelsea. E bufera. Tutto sport segretissimo. Dentro la Juve. Dopo il disastro di Bergamo c'è ottimismo per Chiellini. Recupero previsto in due settimane. E anche Bonucci accorcia i tempi. Ecco perché Paratici non ha preso Bruno Alves. E tutti i retroscena sul caso Benatia. Insomma, tutte le questioni di casa Juventus. In alto. Inter K.O. Si scalda Conte. Nerazzurri eliminati ai rigori. 5 a 4. Spalletti sempre più in bilico. Lazio in sé in finale con il Milan. E a proposito di Milan. Stop al mercato. Bravo Milan. Colpi Champions. Pacchietà e Piontec. Qualità per Gattuso. Sampe Fiorentina. Dopo i rossoneri. In basso. Marco Singo. Portanova. Il Toro investe. Sui giovani. Per Cassi. E l'oro di Bergamo. Gioielli. Atalanta. Ed ecco i prossimi. In basso. Ritroviamo la notizia. Vialli. Capo delegazione. Coppia Azzurra. Con Mancini. Bene. Finisce qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso le previsioni del tempo. La pubblicità. Poi torniamo insieme per vedere, sfogliare i quotidiani di casa nostra. Tra poco. Seconda parte di mattino 6. Rientriamo per entrare all'interno dei quotidiani. Di casa nostra ripartiamo con le tematiche che riguardano la politica. Ovviamente ci avviciniamo al voto tra nove giorni. E allora ripartiamo dal centro. Berlusconi. 5 stelle nemici delle imprese. Il presidente di Forza Italia chiede per sostenere Marsiglio. Incontro agli imprenditori. Oggi Turra, Teramo e Pescara. Sempre per la politica. Puntata speciale di Porta a Porta dedicata al voto. Ma è polemica. In basso. Candidata Rom contro Casa Pound, Adele Di Rocco. Flaiani ci insulta. Noi siamo italiani da secoli. Nell'altra pagina. I sindaci ai candidati autostrade. Basta rincarica. Arsoli, l'incontro promosso dai primi cittadini di Abruzzo e Lazio. Presenti Legnini e Marsiglio. Urgenti le revisioni dei pedaggi e la sicurezza delle tratte. Legnini. La regione riparta dai valori. L'incontro con Conf Professioni. Poi a Celano. L'omaggio alla lapide di due braccianti. In basso. Vacca. Presto misure per l'Aquila. Il sottosegretario con Marcozzi rassicura il comune sui 10 milioni di mancate entrate. Ma ovviamente la politica fa da padrone anche nelle aperture degli altri due quotidiani che andiamo a sfogliare. Siamo sul messaggero. Berlusconi alla peggio. Vincono i 5 Stelle. Il cavaliere in ritardo a Chieti. Anche per una Mercedes sospetta. Leader di Forza Italia Sicuro. Legnini. Arriverà comunque terzo. In basso. Il PD all'attacco. Marsiglio si astenne sul decreto sisma. E questo è l'esito della votazione sul decreto terremoto. Ma il primo cittadino dell'Aquila, Biondi, ricorda il voto dell'avversario in Senato del 21 maggio del 2009. Anche sulla città l'apertura è dedicata alla visita di Berlusconi in Abruzzo. Berlusconi sicuro della vittoria di Marsiglio. Il presidente di Forza Italia ieri a Francavilla per il primo appuntamento della Due Giorni Abruzzese. E poi per la televisione polemica inutile sullo speciale RAI per le elezioni regionali in Abruzzo. Andiamo adesso. Io vi ricordo che a proposito del voto del prossimo 10 febbraio, questa sera alle 21 ci saranno tre dei quattro candidati governatori della nostra regione, ospiti dei nostri studi. Il candidato per il centrodestra Marco Marsiglio, il candidato per il centrosidista Giovanni Legnini, la candidata per il Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi, nello speciale Moby Dick, saranno intervistati da Giovanni Minicozzi sulla nostra rete, questa sera alle 21, dunque si sfidano i candidati a essere il nuovo governatore della nostra regione. Dunque appuntamento da non mancare, questa sera alle 21 ovviamente su TV6. Adesso cambiamo argomento, il reddito di cittadinanza in regione assegno per 44 mila famiglie, il dato da una provvedizione dello Svimez per finanziare in Abruzzo la misura contro povertà, occorrono 326 milioni di euro. e poi in basso tetti di spesa in sanità in aula il teste d'accusa. Sempre sul centro vediamo la doppia pagina che è dedicata a Pescara, eccola qua. Abbiamo cambiato visualizzazione, dopo la soluzione il sindaco Alessandrini, ma che primaria il candidato del PD dice sono io. Alessandrini rompe con la linea indicata dal segretario cittadino del partito. In basso invece solo in Forza Italia i pretendenti sono tre. Mascia, Antonelli e Masci si dicono pronti, ma temono divisione. L'ex sindaco dice facciamo un sondaggio. Il convegno 40 anni dopo le vittime del terrorismo raccontate dai loro figli. Figli, diritti infranti e strategie del terrore oggi pomeriggio in tribunale. Nel ricordo dei giudici Emilio Alessandrini, Guido Galli e del giornalista Tobagi. In basso l'intervento del Presidente del Tribunale bozza. Il sacrificio di quegli uomini ha reso salda la nostra democrazia. Sanità, la sede di via Riosparto, il distretto Pescara Sud sarà pronto tra un anno. L'ASL annuncia l'affidamento della gara d'appalto a un'impresa campana. In basso l'operaio caduto e in condizioni gravissime. L'incidente sul lavoro in via Valle Fuzzina. L'uomo è ricoverato in rianimazione e sequestrato il cantiere. A pagina 15. Una casa per accogliere i disabili rimasti soli. Struttura assistenziale voluta dall'arcivesco Valentinetti. Sarà inaugurata il 9 febbraio in via Cavour. Nata con la legge dopo di noi, ospiterà 6 persone. In basso asfalto in dono per le nuove vie del centro. Interventi sul corso nelle altre strade grazie alla convenzione con la società che si occupa della fibra. Andiamo avanti. Medaglie d'onore agli eroi della guerra, vittime del nazismo. Cerimonia in prefettura con i familiari di Amoretti e Palmieri. Il carabiniere Abramo Rossi ricorda come riuscì a sopravvivere. Dall'altra parte, capodanno cinese, feste con lotterie, danza del leone. Lunedì prossimo si celebra il 2019, l'anno del maiale. Presi d'assalto i ristoranti, menù sfiziosi a pochi euro. E poi andiamo avanti. Monte Silvano, bilancio e sanzioni. Il Comune vuole incassare 4 milioni di multe nel 2019. La voce principale è ridotta di un milione e mezzo rispetto al 2018, ma è aumentata di otto volte la previsione degli inchiassi per il superamento dei limiti di velocità. La protesta? Pensione invalidità. L'appello di carrozzine determinate. In basso, sempre a Montesilvano, Pineta, nessuna traccia di bivacchi e tende. Sopra luogo il sindaco Maragno, dopo le segnalazioni dei residenti. Qui è tutto sotto controllo. Città Sant'Angelo, casa di riposo. Il Tribunale concede altre due settimane. Fraternità magistrale di Città Sant'Angelo. Confermate le richieste della curia. Ares si ha i lavori. I sindacati, ricollocare i lavoratori. Lunedì, incontro in prefettura. In basso, a spoltore. Indagine statica al distretto sanitario. La sede soffre di deficit strutturali. Comune, in carica, un ingegnere. A Francavilla, incidenti con scooter e bici. Due feriti. I scontri sulla Nazionale in Viale Alcione. Rallentano il traffico solo il motociclista. Ricoverato in ospedale. Altra notizia. Rapinò una prostituta sulla riviera a San Giovanni Tiatino. Condannato a sette anni di carcere. La cerimonia ha premiati i soccorritori di Enrico Natali. Sempre a San Giovanni Tiatino. Riconoscimenti agli angeli che ritrovarono l'anziano scomparso. Ecco i lavori dimenticati dalla provincia. Ponti chiusi, strade abbandonate al loro destino. Ma i finanziamenti ci sono. Tre sindaci della provincia di Pescara sollecitano l'ente a muoversi. In alto siamo a Torre dei Passeri, riaperto al pubblico. Colle del Castelluccio. Qui siamo a Chiedi. Allora andiamo a vedere Pescara e provincia sul messaggero. verso la sfida a tre per il Comune. Le assoluzioni per il mare inquinato e la City spianano la strada al bis di Marco Alessandrini alla corsa di Antonelli. Sindaco uscente esclude le primarie chieste anche da parte del PD. Si rischia l'ingorgo. Si scarica anche un'altra Alessandrini. Erika del Movimento 5 Stelle. In basso tetti di spesa, le cliniche, udienza ad alta tensione. Poi dall'altra parte, dietro il delitto neri, le ombre di Pescara. Pier Vincenzi racconta. Movida e spaccio, vetrine sfavillanti del centro e periferie. Il giornalista gira la sua inchiesta per un nuovo format di Rai 2. Pugno duro rapinò una prostituta sul lungomare. Quarantenne condannato a sette anni. Altre notizie. Riconoscere Guaidò. Venezuelani scendono in piazza. E poi medaglie della memoria ai parenti di internati nei lager e prigionieri. Bocciato il bando per Fonte Primavera. Siamo a Popoli. Il provenimento del Tribunale amministrativo fa seguito al ricorso proposto dalla Santa Croce. L'imprenditore Colella. Tante le irregolarità segnalate dalla società. Si parte dalla carenza di analisi alla riduzione del canone. In basso quest'estate spiagge libere più sicure. Sette aree saranno affidate in gestione. Siamo a Montesilvano. Dall'altra parte siamo già all'Aquila. Cotugno. Riunite le classi e il liceo in attesa della nuova sede unica. Dal 4 febbraio verrà utilizzato il MUSP. Lasciato dalla dottrina cristiana. Il polo definitivo nascerà alla Ex Rossi. con 13 milioni di euro già stanziati. La Mannetti. A giudizio solidarietà da più parti. In basso. D'Alfonso. Mail violata. Mandate soldi al finto appello dell'ex governatore. Aveva risposto un collaboratore bonifico bloccato sul filo dei secondi. sempre all'Aquila. Questura declassata. Si accende lo scontro. Il Viminale la retrocede dalla seconda alla terza fascia. Biondi. Ho sentito Gabrielli. Non ci sarà depotenziamento. Tutto il PD all'attacco di Salvini. L'Aquila. Limone da spremere. La nuova classificazione è legata ai dati territoriali e ai reati. ma il grado del questore sarà abbassato. Vediamo per la politica. Regionali. Campagna ovviamente nel vivo. Con tanti incontri anche all'Aquila e provincia. Siamo a parlare di sanità. Andiamo nella Marsica d'Avezzano. Meglio quando c'era Silveri. Commenti e veleni sulla politica cittadina. alla luce delle consultazioni regionali che rivoluzioneranno la Giunta. Qualche butad contro la Presidente del Consiglio Comunale. L'Angelucci predica il rinnovamento all'interno dei Democrat. Vediamo altre notizie. Avezzano la posta non arriva. Salta il Consorzio ai Finanziamenti. Sul Mona, Bretella di Santa Rufina. Adesso si fa sul Serio. Zona economica speciale. La Zest, Cielo Che, opportunità di rilancio. Siamo a Sul Mona, del territorio. Garantendo sgravi fiscali e agevolazioni. Così come prevede il regolamento delle Zess. A Chieti. Sventato un colpo in villa. Sparatoria con i banditi. Tre malviventi. Hanno cercato di investire i carabinieri. Che poi esplodono. Tre colpi. Utilizzata una Mercedes. Rubata a bordo alcuni dischi. Usati per aprire le casse forti. Altre notizie. Lavoro in città. Cantieri al via. Quattro interventi. E poi premio Prisco. Ecco tutti i finalisti. Tre carciatori spiccano. Culi baliche. Vediamo in foto del Napoli. Chiesa della Fiorentina. Zappata dell'Atalanta. Dall'altra parte siamo a basto. Opere pubbliche. Quante incompiute. Le campagne elettorali. Il rispolvera. Trattano solitamente dei tormentoni. Che tornano a solleticare le fantasie dei cittadini. Restando però spesso e volentieri tali. Il lungo elenco inizia con il nuovo ospedale. Per arrivare alla Statale 16. E alla stazione. E al binario. Di Punta Penna. A San Salvo. Chiesa di San Nicola. Via alla riqualificazione. Lanciano. Disastro ferroviario 2018. Dissequestrati. Due vagoni. Andiamo avanti. Siamo a Teramo. Adesso. Di Francesco e Cerino. Si accusano a vicenda. E partono le querele. Il litigio tra imprenditori. Sfosciato. Con il lancio dell'acido. E un punteruolo. La magistratura. Ha disposto una perizia. Per stabilire. In quale auto. Era nascosta. La bottiglietta. Il rettore. Parliamo di università. Ex manicomio. Diventerà un luogo di cultura. Il rettore Nino Mastrocola. L'università di Teramo. Con l'atterrato. Serve una commissione d'inchiesta. La visita del sottosegretario. Crimial Duomo. In basso per la cronaca. Far restare il marito. E poi in guai a pure l'amante. Superato il blackout. All'Az. Dopo sette giorni di caos. Scontri allo stadio. Cambiamo pagina. Pronti venti d'aspo. Botte da orbi. E lanci di sassi e bottiglie. Tra gli ultra del Real Giulianova. E del Montevarchi. Prima della gara di Coppa Italia. Di serie D. Feriti due tifosi toscani. I carabinieri hanno individuato. I teppisti. Analizzando le immagini. Della telecamera. Di un bar. Altre notizie. Il blitz. Ditta di campi nei guai. Discarica di solventi. Vicino al salinello. E poi una scuola in vendita per rifare il lungomare. Il progetto. Siamo ad Alba Adriatica. E poi consegnano la droga a domicilio. E vengono condannati. Qui siamo allo sport. Ci arriviamo ovviamente tra un po'. Torniamo sul centro. A Chieti. Sventata rapina in villa. Sparati tre colpi. Indagini sul tentato omicidio. Tre banditi armati di pistola. Tentano di investire i carabinieri. Che fanno fuoco contro l'auto. Caccia alle impronte della gang. In basso. Taxi. Turni all'aeroporto. Ecco le novità. Via libera della commissione ai tassisti teatini. Per raggiungere anche l'ospedale. E il tribunale. Stupro di gruppo. Con la droga. Quattro imputati. Violenza sessuale. Il caso va a Pescara. Giovani va stesi. Martedì prossimo. Davanti al GUP. Offrono ascisce e cocaina. Ad una ragazza. Di cui avrebbero poi abusato. Potalivo. Fatale un trauma toracico. Vasto. Eseguita l'autopsia sulla donna investita. Oggi i funerali. Siamo alla Denso. A San Salvo. Si prospetta la settimana corta. Brusca frenata nelle produzioni. Operai in cassa integrazione. Per diversi venerdì consecutivi. Ci tiene ai figli le minacce degli usurai. Chiedi coppie arrestate per estorsione. Prestiti a strozzo. Le intercettazioni allargano l'inchiesta. Ma moglie e marito si difendono. Cocaina, dipendenze in aumento. Lanciano droga e gioco d'azzardo. L'attività del CERD. Il 90% ha più di 39 anni. Chieti, strade rotte. Partono i cantieri. Via ai lavori da 206 mila euro. Si parte da Via Carusi. Siamo a Teramo. Università ex manicomio. I tempi sono strettissimi. Firmato il contratto per la progettazione. Sarà pronta a giugno. Poi Bando Europeo per affidare i lavori entro l'anno. Intanto è ripartito il sistema informatico dell'ASL. La ripresa sarà lenta. Ma si potranno fare le prenotazioni. Contestazioni all'impresa. Allarmi ignorati. Acido. Decisivi rilievi della scientifica Cerino e Di Francesco, che resta ricoverato, continuano ad accusarsi a vicenda. La procura indaga per lesioni aggravate. Deposito di rifiuti pericolosi sul Salinello. Campio scoprono. Guardia Costiere Arta. Nell'area di un'industria. Denuncia e multa al titolare. Finta cliente. Deruba parrucchiere. Giulia Nova. La donna rintracciata dai carabinieri. Grazie alla targa dell'auto. Tentata estorsione con foto. Se assolto. L'uomo era finito a processo. Siamo a terra. Con l'accusa di aver chiesto soldi alla donna e al marito per non pubblicare gli scatti sui social. Spaccio di eroina e cocaina. Tre condanne. Secondo l'accusa i tre imputati erano al punto di riferimento per la droga nella frazione di San Nicolò. E poi l'iniziativa del governo. Due milioni e mezzo per i comuni terramani. Le amministrazioni hanno l'obbligo di progettare e avviare i lavori entro giugno. Silvi, piano per spostare il mercato in centro. Silvi, sul sollecitazione del Movimento 5 Stelle se ne è discusso in consiglio. Il sindaco dice possibile ma bisogna risolvere i problemi di traffico. Silvi Paese via l'Eternit dall'ex allevamento a Pineto. Incontro sulla tassa di soggiorno. Siamo all'Aquila. 10 milioni per rilanciare le imprese, produttività, settore in crisi. Al fondo già stanziato possono aderire anche aziende piccole e piccolissime e anche gli autonomi. Prestito medio di 33 mila euro. In basso risarcimento di terremoto, nuovo scontro, fioravanti, familiare, vittime e sisma. A noi lo Stato richiede i soldi e per Rigopiano stanzia 10 milioni. Sono innocente e vogliono incastrarmi. L'imprenditore Troiani interrogato in carcere, preannunciate indagini difensive. Il PM Padalino si oppone alla liberazione. L'inchiesta è sugli incendi nella Marsica. Ruba in casa di un anziano morto, viene arrestato. Il 32enne si chiama d'Avezzano, clandestino in carcere, sorpreso in Biateramo mentre rovistava nelle stanze. Poi mercato. La questura vieta il corteo. Avezzano domani mercato regolare. Manifestazioni proibite durante le elezioni. Il caso paralisi amministrativa comuni senza 111 segretari. Caruso s'appella a Salvini. Grido d'allarme lanciato dal presidente della provincia. I disservizi e le spese maggiori nei paesi montani con meno di 3.000 abitanti. Poi in basso il mondo di Iaia con Muove e Mattarella. Il capo dello Stato apprezza le fiabe della bimba scomparsa al libro per raccogliere i fondi. Dati record sulla raccolta sul Mona. Rifiuti porta a porta. La rivoluzione ha premiato la città. Siamo allo sport. Però prima un rapido sguardo alla cronaca della città di Teramo. Ex manicomio. Il recupero è diventata una realtà affidata alla progettazione definitiva. Tra 150 giorni il progetto per la gara. Entro l'anno l'apertura definitiva del cantiere. Sfida nel confronto con una storia unica per l'architetto Desideri. Il progetto sarà un unicum a livello nazionale. Solo le impronte sveleranno chi ha sfregiato. Il giorno dopo la lite non è ancora chiaro chi tra i due imprenditori abbia utilizzato l'acido muriatico. E poi benvenuti nella ricostruzione che non c'è. Il sottosegretario Vito Crimi ha collaterrato basso tra le case popolari in Agibi con oltre 2.000 sfollati. Risolto il blackout salvati tutti i dati della ASL come anticipato dalla città. Rescisso il contratto con la società che avrebbe dovuto prevenire il guasto. E intanto sempre a Teramo rischia di saltare il restaing del corso vecchio. In conferenza servizi già bozzata la Exit Strategy. Teatro Romano Ponziani chiede coperture. L'amministrazione d'Alberto preoccupata per la conferma dei fondi già stanziati dal governo. E poi a Campli la bomba ecologica a due passi dal fiume. Solventi e vernici altamente tossici. In un sito di una ditta scattano sequestro e denuncia. A Martinsicuro i tigli secolari non sono un pericolo. Il comitato presenta una nota della polizia sulla sicurezza di via risorgimento. E siamo a Giulianova dove i cittadini giuliesi si affidano alla tecnologia per monitorare le case. I droni in azione per difendersi dai ladri. Una finta cliente ha ripulito il marsupio di un parrucchiere portando via 600 euro. Andiamo adesso allo sport. Partiamo dal Pescara. Ovviamente niente colpi in attacco. Pescara senza rinforzi. A vuoto gli ultimi tentativi per un centravanti. E' un esterno offensivo mancino. Tra un po' faremo il punto. Farelli però para le critiche. Ci vuole equilibrio nei giudizi. Il portiere del Delfino. Siamo terzi grazie all'entusiasmo e alla forza del gruppo. Non roviniamo tutto. Le altre operazioni. Martella, ex Pescara e del Brescia. Che sarà il prossimo avversario del Pescara domenica sera. Calaiova, un altro ex biancazzurro alla Salernitana. Il terzino di Pineto lascia il Crotone. Domenica dovrebbe già esordire contro il Pescara. I Lombardi prendono anche Rodriguez. Bocalon al Venezia. E il Carpi ingaggia. Sisse il Padova ingaggia. Barai e del Parma. Vitale al Verona. Scambio di portieri. Leale al Foggia. Bizzarri va al Perugia. Allora facciamo il punto della situazione con il servizio di Andrea Costantini. E in uscita il movimento più importante formalizzato dal Pescara nell'ultimo giorno di mercato. José Macin si trasferisce al Parma. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 2 milioni più bonus. La metà di questo prezzo finirà nelle casse della Roma come pattuito la scorsa estate con i giallorossi al momento del riscatto. Il Parma ha sorpassato il Genoa, società alla quale Macin è stato accostato per tutto il mese di gennaio senza andare all'affondo definitivo. Che invece il Parma ha portato d'improvviso ieri pomeriggio per poi chiudere l'operazione in mattinata. Con il giallo perché da quanto raccolto a precedere l'epilogo della trattativa è stata la separazione tra Macin e il suo procuratore, l'agente Donato Di Campli che appena tre giorni fa, domenica sera, aveva alzato la voce dopo l'esclusione del suo assistito dalla formazione titolare schierata da Pillon a Livorno. Il trasferimento è stato gestito da Simone Pepe. D'altro canto, proprio dal Parma, il Pescara ha acquistato l'esterno basso di sinistra Giovanni Pinto in prestito fino a giugno. Rimasto fuori lista con i Ducani nei primi sei mesi di stagione, il giocatore ha disputato una buona seconda parte di campionato lo scorso anno nell'ascoli di Cerse Cosmi. Sarà pinto l'alternativa a Cristiano Del Grosso. Il suo arrivo peraltro ha fatto decadere la trattativa tra il Pescara e Nicola Falasco del Perugia che sembrava molto vicino questa mattina. È evidente la mancanza del grande colpo in entrata, del centravanti in particolare. Nulla da fare per Daniel Ciofani che resta al Frosinone, nessun passo indietro del club Ciociaro e operazione che il Pescara non ha concretizzato perché il milione richiesto era una somma troppo alta e vi era indisponibilità del giocatore e dello stesso Frosinone a perfezionare una cessione in prestito. Fabio Ceravolo, dopo aver rifiutato la Sanerintana, ha deciso di restare a Parma. Nessuno sviluppo anche per il settore esterni d'attacco, né per Mirko Carretta della Cremonese per il quale si era ipotizzato uno scambio con Marras, né per il nome dell'ultima ora, Livoriano Yaku Meite del Reading, squadra della Serie B inglese. E allora restano a Pescara Gaetano Monachello, Cristian Capone e Nando Del Sole che ha rifiutato in extremis la proposta del Cosenza. Restano anche Andrea Cocco e Luca Forte ma senza far parte del progetto tecnico. Come vi abbiamo anticipato due giorni fa, il Pescara non ha tesserato Matteo Liviero che invece ha firmato con il Fano fino a giugno, mentre Leonardo Malocu, rientrato dalla squadra di Epifani, è stato girato alla fermana. Sempre dal Fano poi, il Pescara ha acquistato il portiere Filippo Badioli, classe 2002, a titolo definitivo. A consuntivo della sessione di gennaio di mercato, il Pescara ha ceduto. Fornasiera al Venezia, Palazzi al Monza tramite l'Inter, Gravion all'Inter, ma restano in Biancazzurro in prestito fino a giugno, e Macina al Parma. In entrata, Bettella in prestito dall'Atalanta, Sottil in prestito dalla Fiorentina, l'Uruguayano Bellini in prestito con il diritto di riscatto dal Wanderers di Montevideo e Bruno dal Livorno, più i giovani Zappa dall'Inter, ma dalla prossima estate, Scimia rientrato dal Fano e Baglioli sempre dal Fano. Sfumato giorni fa il trasferimento alla San Benedettese di Scalera. E allora vediamo anche le trattative del Pescara che ha riassunto il nostro Andrea Costantini sul messaggero. Ciao Macin, ciao Pescara, dietro arriva Pinto, il centrocampista in prestito al Parma, con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro, bloccata la cessione di Monachello. Bellini proverrà a ritagliarsi uno spazio a centropagina, dunque dal mercato solo le scommesse Sottil e Bettella. In basso per il volley Sieco, Simoni in campo a fine mese, per il basket Sharks la difesa finalmente gira. Andiamo in casa Teramo, c'è Madrigali il terzino, che poi non è in realtà un vero e proprio terzino. Scambio con la Lucchese che prende FRT, Lewandowski resta, sfuma il passaggio al Perugio. Vitale e di Renzo Rescino nel contratto della Giovanna e sfumano un solo play-out e l'interrogativo. Comunque anche in questo caso facciamo il riassunto della giornata l'ultima di mercato per il Teramo. Tanti arrivi, parecchie cessioni, ma non tutte quelle che il diavolo avrebbe voluto. L'ultimo giorno di mercato del Teramo porta in nota è Madrigali, il difensore classe 1995, scuola fiorentina. Arriva in bianco-rosso in prestito fino a giugno all'interno dello scambio che ha portato Ioad, Ferreti e alla Lucchese, squadra di provenienza proprio di Madrigali. Dunque né Cason né della Giovanna, il primo della Virtus Francavilla, perché non si è concretizzato un altro scambio, quello che avrebbe portato Altobelli in Puglia. Il secondo invece è sfumato proprio nel momento in cui il Teramo ha intravisto la possibilità di disfarsi di Ferreti che non rientra nei piani di Maurizio e della società. Ma la mancata partenza di Altobelli crea comunque un piccolo problema di sovraffollamento dietro, perché è vero che Speranzi è ancora out, ma il diavolo si era già assicurato Polac, ora Madrigali, mentre a sinistra non c'è un vero sostituto dell'infortunato Celli, vista la partenza di Mastrilli. La società però non trovando acquirenti ha rescisso anche i contratti con Vitale e Dielenzo. Per il difensore il mancato impiego prolungato impediva di intravedere una prospettiva all'interno della Rosa. Il centravante allo stesso modo non avrebbe avuto spazio, vista l'arrivo sia di Sparacello che di Infantino. Le gerarchie davanti sono cambiate e per l'ex pro-Sesto le porte sarebbero state chiuse. Ora è libero di trovare una squadra per la seconda parte di stagione. L'affare centrale però è quello che avrebbe dovuto portare Lewandowski al Perugia, saltato proprio nelle ultime ore. La strada già complicata di suo sarebbe diventata impraticabile nelle prime ore del pomeriggio, vista la bassa offerta da parte della società Umbra. L'introito che sarebbe derivato dalla cessione dell'estremo difensore polacco avrebbe potuto aiutare ad impostare qualche trattativa last minute, che dunque non ha potuto vedere la luce. A questo punto con Giorgi, Sparacello, Infantino, Polak, Spinozzi e Madrigali si chiude ufficialmente il mercato bianco-rosso. Da domani in poi le trattative potranno riguardare solamente i giocatori senza contratto. L'organico con le tante uscite è rinnovato profondamente e sono andati via Piccioni, Bacio Terracino, Zenuni, Mastrilli, Natale, Vitale, Di Renzo e Fertì. Molti di questi avrebbero dovuto rappresentare la spina dorsale di una squadra presa in corsa da Genore Maurizzi e che adesso, anche sulla base delle sue indicazioni, cercherà la salvezza con un volto decisamente diverso. Andiamo sul centro, Lewandowski dunque resta, il Teramo prende Madrigali in difesa, il Terzino Vitale è di Renzo verso la Paganese Rescino, sfumati della Giovanna e lo scambio. Altobelli-Cason per l'eccellenza a Miternina. Chiedi due volte in quattro giorni, domenica in campionato scoppito, mercoledì a finale i Coppa Italia di eccellenza a Silvi. Alle 18, Serie D, Valavastese perde Leonetti, Montani forse cambia modulo. Andiamo a parlare di basket, Pieric, Io parafulme di un Roseto in risalita. E poi in Serie B, colpo dell'Adriatica Press, missione compiuta a Catanzaro, domenica i Teramani contro Porto Sant'Elpidio. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di questa mattina. Vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale alle ore 14, mattino 6, torna domani puntuale alle ore 8. È tutto, buona giornata. Grazie a tutti.